Il confine tra scooter e bici elettriche diventa sempre più sottile e corre sul filo dei 25 km orari. Entro questa velocità salvo modifica la batteria e l'impianto di accelerazione parliamo di e-bike. Oltre i 25 km orari siamo di fronte a veicoli da immatricolare, assicurare e per il quale necessario patentino e casco. I carabinieri del comando provinciale di Napoli effettuano controlli quotidiani assicurandosi che la normativa sia compresa e rispettata. Dopo il dato significativo emerso lo scorso mese in un servizio svolto a Capri, i militari della compagnia di Sorrento hanno replicato in penisola sorrentina. Delle 42 ruote ispezionate con la preziosa collaborazione di personale della motorizzazione civile di Bari, dotata di una piattaforma per le verifiche tecniche, 32 sono risultati non a norma. Qualcuna era dotata di manetta per l'accelerazione, altre arrivavano a velocità superiore ai 40 km orari. Dei centauri controllati e sanzionati, molti hanno dichiarato di non conoscere questa limitazione. Il totale delle contravvenzioni sfiora i 160.000 euro. Come riconoscere una e-bike norma da una irregolare? Ribadiamo i consigli per evitare problemi. Assicurati che la potenza del motore non superi 250 watt e che interrompa l'assistenza del motore quando raggiunge 25 km orari. Se la tua bici può superare questa velocità senza pedalare potrebbe non essere conforme. Il motore deve funzionare solo quando pedali, la manetta dell'acceleratore non è prevista. Prima di acquistarla controlla che la bici abbia la marcatura CE di conformità e che sia accompagnata da una dichiarazione come c'è di conformità.